Un'estate sull'otto volante, una giostra del calcio che non funziona più come una volta e che ha lasciato in bilico la Paganese Calcio e l'intera comunità sportiva della città di Sant'Alfonso. Dentro, fuori, poi ancora dentro, fuori è definitivamente l'ammissione al campionato di Lega Pro. L'iniziale esclusione di luglio per problemi legati a mancati pagamenti di tasse all'erario aveva aperto una crepa che sembrava difficilmente risolvibile. Dopo il mancato successo al collegio di garanzia del CONI, si erano addirittura formalizzate le procedure per iscrivere un nuovo sodalizio in Serie D, grazie all'ex Lodo Petrucci, che permette a una città di non perdere il proprio patrimonio sportivo, in questo caso calcistico. E mentre il comune di Pagani faceva richiesta alla FIGC, alcuni imprenditori sembravano già interessati a rimettere il pallone al centro del campo. Ecco la manovra che non t'aspetti, l'asso nella manica cui pochi avevano pensato, quello che aveva il presidente Raffaele Trapani. Da prima aveva dichiarato di aver chiuso col calcio, poi invece il colpo di coda attraverso il ricorso urgente al Tardellazio, passando dalla giustizia sportiva a quella ordinaria. Accordo con l'Agenzia delle Entrate per la rateizzazione dei debiti, richiesta di sospensiva del provvedimento del CONI al Tardellazio. Il presidente del Tribunale amministrativo aveva accolto l'istanza dei legali della Paganese, che era dunque stata riammessa il 3 agosto in Lega Pro. Rimandata la prima partita di campionato col Francavilla, in attesa del giudizio del collegio giudicante del Tardellazio, una sentenza prevista il 30 agosto, cioè ieri, col torneo che invece è partito qualche giorno prima. Ma intanto gli azzurro stellati avevano disputato già due partite di Coppa Italia Lega Pro, con Vibonese e Regina. Tutto faceva pensare a una definitiva riammissione. Poi la giornata di ieri, che raccontiamo a parte, vissuta ancora una volta, come si diceva, sull'otto volante. Dentro fuori, stavolta è dentro. E così sarà. Ora tocca alla dirigenza mantenere gli impegni per pagare tutti i debiti accumulati e sfruttare l'entusiasmo venutosi a creare tra la gente per disputare un campionato di buon livello.